Che Phoebe Price fosse sexy e formosa lo sapevamo già. Se poi l'abito è praticamente inesistente, il risultato diventa di poco esplosivo. La rossa, paparazzata al Craigs di Hollywood, indossa un body bianco con ricami e scolatura vertiginosa, ma il pezzo forte deve ancora arrivare. La gonna è costituita da strisce di tessuto che non lasciano nulla all'immaginazione e mettono in risalto l'intimo di pizzo. A completare il tutto, scarpe col tacco nere e cappellino. Se l'attrice ha scelto un look così audace, però c'è un motivo. Phoebe farà la comparsa nell'ultimo video di Jessica Satta, una delle pustiche dolls, e quello è il costume di scena. Adesso si spiega tutto.